Quest'anno l'8 giugno rappresenta una data molto importante per me, oltre a essere l'anniversario del nostro Consiglio regionale rappresenta anche una parte di me stesso molto importante, che è il mio cinquantesimo compleanno. Io sono nato l'8 giugno, pochi minuti dopo che si è conclusa la campagna di votazione dell'8 giugno 1970.